...sfigurare per sempre il loro volto, il loro corpo o l'acqua. Ricordo ancora quegli occhi al centro, terrorizzati, spaventati, con intorno un corpo uspionato. Sono immagini che non posso dimenticare. ...e non lo voglio dimenticare qui oggi che noi abbiamo una straordinaria... ...però è in dubbio, questo lo voglio sottolineare, con grande forza che cosa? Io credo che questo sia un passaggio fondamentale. Si cambiò un paradigma dell'azione possibile della politica, delle istituzioni, delle donne, uomini e stati, ma soprattutto è un tema che si affronta se l'insieme delle politiche, in tutti i luoghi della decisione politica, istituzionale, mediamente, ma ancora oggi purtroppo succede, non solo nel nostro paese, ma ai diversi di occupare le donne, apro una parentesi, in questo io ringrazio i pochi uomini qui presenti oggi e ringrazio in particolare di nuovo il Presidente Giorgio Napolitano, perché non solo... Ora, prima, tristenza formalità con i lavoratori di esperienze linee... ...il come ricreiamo una sinergia e una relazione... ...invece nelle società, nella società civile, ovviamente questo è... ...l'agenda degli impegni, parliamo di vent'anni fa. Tante sono in questione verte, alcune delle quali sono state indicate da Valeria Fedeli,